I dipendenti della Riva Cold, uno dei grandi gruppi industriali del Pesarese, operante nel settore della raffrigerazione industriale e commerciale, questa mattina alle 8 davanti ai cancelli dell'azienda a Montecchio di Vallefoglia, hanno incrociato le braccia per uno sciopero di 8 ore indetto dalle organizzazioni sindacali in accollo con la RSU. Pomo della discordia, la nuova piattaforma presentata dai lavoratori per la stesura di un nuovo contratto integrativo. I lavoratori dopo alcune assemblee sono scesi in sciopero, quindi hanno dichiarato sciopero e aderito in maniera molto forte allo sciopero per sbloccare una situazione che riguarda la contrattazione aziendale, l'azienda non è nella disponibilità di aprire uno spazio contrattuale che riguarda i lavoratori. I lavoratori hanno deciso e risposto in maniera molto massiccia, speriamo che tutto questo serva a far rivedere le posizioni dell'azienda, aprire un tavolo nel quale si possa attuare la contrattazione. Questa è la seconda volta che i dipendenti dell'azienda scioperano, la prima è stata l'estate scorsa, quando, ironia della sorte, per un'azienda che opera nella refrigerazione, il caldo all'interno dello stavimento era insopportabile e i lavoratori sono usciti per protesta.